A seguito dell'approvazione della relazione sull'elezione contestata della senatrice Anna Carmela Minuto ha riscontrato nella seduta odierna che il candidato cui attribuire il seggio è Michele Boccardi. Non è più senatrice la molfettese Carmela Minuto, lo ha stabilito il voto segreto dell'aula di Palazzo Madama che si è espressa dopo la relazione affidata al senatore Pilonne sulla base delle valutazioni effettuate dalla giunta per le elezioni. Il posto in senato occupato fino ad oggi dalla Minuto è stato riconosciuto al barese Michele Boccardi. Entrambi candidati da Forza Italia nel 2018, l'elezione fu assegnata alla molfettese per un errore materiale commesso nella redazione dei verbali presso la Corte di Appello di Bari, uno scambio di seggi sui verbali appunto su cui l'altro candidato, il forzista Michele Boccardi, aveva proposto ricorso. Il riconoscimento della sua elezione era già avvenuto nel luglio del 2020, la calendarizzazione del reintegro però è restata in evasa fino ad oggi. La Minuto ha lasciato il Palazzo Madama con un commosso discorso in cui ha rivendicato il proprio impegno nella veste di senatrice. Ed ora potrebbe lasciare anche Forza Italia per approdare alla Lega. Voci di corridoio, infatti, sostengono che la molfettese non abbia gradito il comportamento degli azzurri su questa vicenda. Già nel gennaio scorso, proprio per queste tensioni, la allora senatrice Minuto era annoverata tra i presunti responsabili disponibili, cioè a sostenere la fiducia al presidente del Consiglio, Conte. Il seggio occupato dalla Minuto è costato praticamente il doppio per i contribuenti italiani per quasi quattro anni dei cinque della legislatura che si concluderà nel 2023. Le indenità, gli emolumenti, tutti i costi accessori incassati dalla Minuto finora, sono stati legittimamente percepiti dalla senatrice Molfettesi, ma all'entrante Boccardi dovranno essere riconosciuti gli arretrati dal marzo 2018.